Buonasera, buonasera, benvenuti a tutti a questa che è l'ultima incontro in questa piazza, per questa edizione del festival, grazie della vostra partecipazione e vi ricordo semplicemente che come ogni evento del festival è tutto gratuito, è tutto offerto da degli sponsor e grazie alle vostre donazioni, quindi è molto importante per noi il sostegno che ci date, potete fare le donazioni sul sito e anche direttamente ai volontari che vedete con le magliette arancioni che le possono fare attraverso il loro tablet, quindi potete donare sia con la carta di credito che in altre modalità. Questo evento è un evento realizzato in collaborazione e sostenuto dalle edizioni deoniane di Bologna, che ringraziamo. Il titolo è Salvato dai migranti, narrare i momenti di una vita significa guardare oltre la superficie del benessere e impegnarsi per una società più giusta e accogliente. Io vi presento semplicemente Simone Arminio che è giornalista e attualmente vice responsabile della redazione politica di Quotidiano Nazionale, è coordinatore del canale digitale Economia del quotidiano.net, autore di podcast e vari saggi. Lui ci modererà questo incontro e ci presenterà i due ospiti. Grazie. Iniziare facendo cadere il microfono rompe il ghiaccio in genere. Eccoci qua. Allora, questa sera siamo, oggi pomeriggio anzi, siamo con Mattia Ferrari, Don Mattia Ferrari. Ne abbiamo sentito parlare, io perlomeno ne avevo sentito parlare spesso, in prima linea nella quotidiana accoglienza ai migranti sulla nave di Mediterranea Human Savings. Autore già di un libro in cui raccontava queste vicende che si chiama Pescatori di uomini. Oggi esce con un secondo libro di quello che, di cui parleremo oggi, si chiama Salvato dai migranti, edizioni EDB, lo trovate lì nello stand di EDB, casa editrice di Bologna, insomma, quindi particolare, come dire, l'orgoglio che ne abbiamo anche per questo. Ci faremo raccontare cosa c'è all'interno di questo libro e come mai si è arrivati sia a scriverlo e sia a vivere le esperienze che poi sono raccontate nel libro. Lo faccio con Carlo Albarello che è qui dall'altro lato, saggista, docente e ci racconterà poi perché, e nei ringraziamenti del libro, perché comunque c'è stato un'ars aiutica, un convincimento alla scrittura del libro, ma a questo arriveremo in un secondo momento. Intanto appunto io partirei, se siete d'accordo Carlo, con Mattia, con Don Mattia. Io la prima cosa che ho pensato, insomma, conosco da giornalista, seguo le vicende di Mediterranea come tutti noi, forse un po' di più dovendome ne occupare. Quando ho visto, in realtà, ho letto la quarta ricopertina del libro, prima di leggerlo, e ho letto la data di nascita di Don Mattia, 1993, ho pensato che in undici anni meno di me ha fatto già il triplo delle cose che ho fatto io in questo periodo. Quindi ci faremo raccontare anche come nasce la sua esperienza e come si arriva anche a gambatesa quasi a intervenire in quella che è la vicenda che negli ultimi vent'anni ha forse cambiato di più il nostro mondo, le nostre città e la nostra vita. I migranti sono, come dire, centrali nelle nostre vicende umane e la loro vicenda umana è in qualche modo dovrebbe essere al centro di quello che sono gli avvenimenti di questi anni, colpevolmente spesso non lo sono, se non in negativo, ma a questo arriveremo con calma. Intanto partirei subito dal come mai si arriva alla scrittura di questo libro nel quale, Don Mattia, c'è anche molto di te, molto della tua vicenda umana che ti ha portato poi sia al sacerdozio e sia a imbarcarti poi su una nave. È l'argomento del primo capitolo del libro. Ecco, raccontacelo e così entriamo nell'argomento dopo averti conosciuto meglio. Sì, grazie. Grazie innanzitutto per l'invito e al Festival Francescano. Io che sono originario dell'Emilia ma abito a Roma da tre anni, è sempre molto bello tornare in Emilia e soprattutto tornare a Bologna che è stata e che è una delle città centrali per Mediterranea e anche per le vicende narrate nel libro e mi fa piacere vedere anche tanti amici, tante amiche questo pomeriggio. Per rispondere alla domanda ci sono due, come dire, parti. Il motivo, la causa di questo libro siede alla mia destra ed è appunto Carlo perché è stato lui che un anno e mezzo fa giustamente dice, era uscito con Nello Scavo Pescatori di Uomini, dice però le vicende specie su questo fronte vanno avanti continuamente e quindi come dire Pescatori di Uomini effettivamente non era, se vogliamo, più aggiornato. È diventato, essendo nel 2020, praticamente un libro di storia perché effettivamente, come hai detto tu, questa è una delle sfide centrali della nostra epoca storica e rispetto a Pescatori di Uomini quattro anni fa sono successe tantissime cose e quindi Carlo giustamente propone di scrivere questo libro, poi lo abbiamo appunto scritto insieme con le sue correzioni, con i suoi consigli e appunto se non c'era Carlo tra l'altro io neanche l'avrei finito il libro perché poi gestendo mille cose tra Mediterranea e tante cose a Roma da questo punto di vista, lui è un professore anche, se io fossi suo studente non sono molto molto zelante, però lo ringrazio perché questo libro è importante perché non è una condivisione mia personale, è una condivisione nostra di Mediterranea Saving Humans, di tante persone che ne fanno parte perché Mediterranea è prima di tutto questo, una grande piattaforma, una grande comunità, una grande famiglia di persone che vengono da mondi diversi e che a un certo punto le strade si incrociano perché ci si scopre mossi, ci si scopre animati dalla stessa passione e qualcuno di noi come me viene dalla chiesa, qualcuno viene dal mondo dei centri sociali, qualcuno viene da altri mondi ma a un certo punto ci si scopre mossi dalla stessa passione, dallo stesso amore e si decide appunto di fondare questa piattaforma e di andare insieme a salvare le persone migranti dai naufragi e dai respingimenti e da lì poi nascono appunto varie vicende che sono anche raccontate nel libro perché come sapete purtroppo tante persone non capiscono, quindi tanti ostacoli ci sono, ci sono anche in questo momento tanti ostacoli rispetto al soccorso in mare, da una parte tanti ostacoli e dall'altra parte come sapete tanta indifferenza che è la cosa che a noi a volte fa più paura perché l'indifferenza detta in termini un po' più volgari il menefreghismo, sapete che menefregho era un motto del regime fascista e quindi dobbiamo sempre preoccuparci quando vediamo il menefreghismo che si fa largo nella società e quindi niente questo libro è una condivisione che per le persone che hanno la bontà di leggere vuole aiutare un po' a penetrare in quello che è il vissuto, l'esperienza di tutti noi di Mediterranea. Allora, Don Mattia, sei stato chiamato subito in casa Carlo quindi intanto insomma prenditi la tua giusta parte di colpa, è colpa tua se c'è questo libro raccontaci come hai conosciuto Mattia. Ma come Mattia, insomma intanto sono privilegiato perché ho sede alla sua destra e questo mi fa già, mi fa bene sperare. No ma anche è un libro che è una conoscenza che nasce come Don Mattia racconta della sua esperienza di vita con uomini e donne di tutto il mondo attraverso un'amicizia, un'amicizia comune nello scavo e non soltanto per aggiornare lo status questionis insomma della situazione italiana, i cattivi rapporti internazionali e la difficoltà di avere a che fare con l'altro ma quello che mi incuriosiva di Don Mattia era proprio ed è la sua figura perché è un po' chi vorrà leggerlo quello che di lui ha pensato il pubblico ministero della procura di Modena al quale si è rivolto, lo vedete Don Mattia e si è sentito dire che se il prete non esercita il ministero in modo tradizionale cioè riservato e silenzioso ecco questi attacchi, gli attacchi a cui lui insomma quotidianamente insomma è sottoposto male spalle larghe ecco sono normali così non è insomma la questione lunga la leggerete non ci sono parole urlate troverete nel libro molti punti esclamativi questi non li abbiamo lasciati nel testo perché dicono la passione con cui Mattia affronta la questione ma che sia un prete riservato parco e che svolga il suo ministero in modo tradizionale certo no, lo ha capito anche il procuratore ed è questo che credo che arrivi di lui e soprattutto alle nuove generazioni, ai giovani che non possono essere silenti sui tanti temi che tu affronti anche in questo volume. Ecco, allora essere un prete tradizionale, io da laico mi interrogo su questo perché leggendo le pagine di Matteo, di Mattia perdonami, e leggendo e cogliendo i punti esclamativi lo si capisce ma non solo, la passione che ci mette nelle cose che fa mi viene da pensare allora come si esercita se non così il sacerdozio, nel senso salvare persone, prendersi carico aspettiamo un momento, prendersi carico delle persone che non hanno speranze una cosa che mi ha colpito molto e magari se vuoi ne parliamo e lo raccontiamo sono le richieste di aiuto che tu racconti nel libro arrivate da numeri sconosciuti via videochiamata di Whatsapp che è anche un po' in parte il segno dei tempi, si può fare del bene, si può dare una mano ma si può essere vicini alle persone anche in questo modo, quindi già la tradizione viene rotta da questo poi dall'altro lato in Salvato dei Migranti c'è un racconto di persone diversissime fra loro centri sociali, preti, naviganti insomma, persone che sono in mare tutti hanno l'unico scopo che è quello di salvare qualcuno, comunque dare una mano a qualcuno che non ha in quel momento nulla, neanche la propria vita perché è in balia delle onde quindi partendo dalla provocazione appunto del quindi se non così come si fa e come si esercita il sacerdozio, vorrei che tu ci raccontassi brevemente tutti questi mondi così diversi che si trovano sulla stessa barca, è proprio il caso di dirlo, per salvare persone Sì grazie, ma dunque sul fatto che la Chiesa partecipi a questi cammini che non è poi in realtà tanto questione tradizionale o non tradizionale perché in realtà fa pienamente parte della tradizione della Chiesa, nel senso anzi in realtà a volte qualcuno che dice tradizionale rivendicandole in realtà la tradizione della Chiesa è sempre stata essere in vari modi, dalla parte degli ultimi e accanto siamo al Festival Francescano quindi più... Avrebbe essere fondativo ma per qualcuno non lo è Quando qualcuno magari critica che la Chiesa partecipa a questi cammini in realtà basta rispondere con le parole di Papa Francesco che sono scritte nella prefazione del libro adesso cito a memoria però il Papa appunto dice la Chiesa partecipa a questo cammino, il cammino di Mediterranea al cammino non solo di Mediterranea, di tutte le realtà che praticano il soccorso, l'accoglienza perché, dice il Papa, la Chiesa non ha alternative se la Chiesa non segue Gesù, se non vive il Vangelo, se non ama come Gesù ama la Chiesa perde il senso stesso del suo essere quindi quando per qualcuno è scomoda la Chiesa, scomodo quello che la Chiesa dice che la Chiesa fa, non è colpa di qualche prete o dei vescovi o del Papa se mai è colpa di Gesù di Nazareth e allora è con Gesù che bisognerebbe che se la prendessero le persone che non condividono questo anche i cristiani che non condividono questo perché non è questione appunto di parte questa è una questione di umanità è una questione di civiltà, di fraternità cioè quando noi riceviamo le chiamate dalla Libia dove la gente viene torturata perché è stata respinta e deportata in quei lager dalla cosiddetta guardia costera libica fortemente infiltrata dalla mafia libica che viene finanziata dall'Italia e dall'Europa per fare queste deportazioni, questi respingimenti se noi non avvertiamo un'inquietudine allora il problema vero sta nella coscienza nostra non sta nelle idee politiche di una persona o di un'altra persona ma è la nostra coscienza ad avere un grande problema ed è proprio perché è una questione di umanità che ci siamo ritrovati insieme persone provenienti da mondi diversi in cui ciascuno partecipa col suo carisma con le sue idee, con la ricchezza anche della propria identità ma questo vale per Mediterranea come vale per tantissime altre realtà vi faccio come dire questo esempio più recente dei giorni scorsi noi siamo stati presi adesso qua siamo a Bologna ma se qualcuno un po' segue le cronache di Roma da alcuni sgomberi nei giorni scorsi e quando c'è stato il primo sgombero lunedì mattina via del Pretoriano che è vicino a dove stiamo noi spin time che è una delle nostre basi io avevo la tesi di licenza in scienze sociali alla Gregoriana da discutere mercoledì e oltre alla tesi c'era pure l'esame finale quindi dovevo essere interrogato e quindi insomma vedo la notizia dello sgombero via del Pretoriano chiaramente come dire dico aiuto dico un disastro però ho visto la notizia che arrivavano i messaggi sul cellulare e poi ho detto ho lasciato perdere se non che dieci minuti dopo in realtà io nella mia coscienza lo sapevo che non si poteva lasciar perdere però la fortuna nella vita è quando tu hai altre persone, altri amici che ti inchiodano la tua coscienza e che ti ricordano il dovere e anche la bellezza di intervenire dieci minuti dopo mi telefona Gabriele uno dei nostri studenti che viene dal mondo dei movimenti io sono prete, lui è ateo non ha neanche il sacramento del battesimo mi telefona Gabriele 20 anni, io ne ho 30, lui 20 e mi dice Don Mattia hanno sgomberato i nostri amici che dormono in via del Pretoriano nelle tende hanno buttato via i loro documenti dice e noi cosa facciamo? mi chiede no? e io gli dico avrei voluto rispondergli non facciamo niente perché devo studiare però lui giustamente dice dobbiamo andare subito là e allora abbiamo preso e siamo andati via del Pretoriano a stare tutta la giornata con questi ragazzi con queste persone anche una donna che già dormiva in strada e che sono stati sgomberati e non sapevano dove sbattere la testa perché erano rimasti veramente senza un posto dove dove andare e poi cosa abbiamo fatto? abbiamo iniziato a chiamare le altre associazioni laiche, cattoliche ci abbiamo parlato tanto con la diocesi di Roma con la Caritas quanto con i centri sociali con altre associazioni del mondo laico e del mondo cattolico ci si è messi insieme insieme si è parlato con le istituzioni e con l'amministrazione e tutto questo ha fatto sì che il municipio secondo mettesse a disposizione un posto e adesso le persone sgomberate sono accolte cioè prima dello sgombero stavano per strada adesso hanno una casa dove sono accolte dove si organizzano dove sono accompagnati dai volontari dagli attivisti e il comune di Roma ha deciso di aprire un tavolo e questo tavolo come dire d'ora in poi gestirà insieme associazioni e amministrazioni la marginalità e le situazioni che si presenteranno questo piccolo cambiamento non c'entra col mare c'entra con la terraferma ma è l'emblema dello spirito di Mediterranea cioè tutto è partito in questo caso perché un ragazzo di 20 anni ateo ha telefonato al prete dicendo una cosa molto semplice c'è una sofferenza umana c'è una violenza c'è un'ingiustizia abbiamo il dovere di intervenire e di intervenire come per prima cosa andare lì andare accanto alle persone che soffrono che sia in mare o che sia in terra e in quell'abbraccio che ha questo sì un valore politico politico nel senso alto del termine perché sono gesti che edificano la civiltà lì ci si ritrova lì ci si unisce e lì passo dopo passo insieme si dà carne a un'altra società un'altra civiltà questo episodio è come dire la sintesi penso di quello che è Mediterranea e che è l'esperienza nostra in mare e in terra ecco allora chiedendo a Carlo intanto di preparare una domanda per Don Mattia intanto volevo fare una riflessione io su quello che ha appena raccontato Don Mattia per chi avrà appunto l'interesse di leggere questo libro lo facciamo vedere ancora Salvatore Immigranti agilissimo si legge in poco è una lettura veramente interessante ecco è tutto così cioè il racconto di Don Mattia è tutto stavo facendo una cosa mi hanno chiamato sono dovuto scappare ho scoperto ho fatto va in giro e fa delle cose straordinarie e c'è una cosa che mi ha fatto pensare molto che in realtà racconta quasi all'inizio dice quasi all'inizio una delle prime frasi è che lui ha avuto la fortuna nella vita di incontrare persone straordinarie e andando poi a leggere nel libro visto che parlavamo di Roma tutti noi penseremmo inconsciamente o consciamente che le persone di cui ci racconta le persone straordinarie sono degli accolli come si suol dire cioè persone che hanno bisogno di aiuto e questa cosa qua è come dire forse il vero nocciolo sia del libro che della vicenda umana e di vita di Don Mattia la straordinarietà del dover andare perché qualcuno ti chiama e del poter conoscere dell'avere il privilegio di conoscere persone che hanno bisogno di te e ti costringono a prenderti carico di una cosa che dovrebbe essere a carico di tutti noi quindi insomma è una cosa veramente straordinaria io credo che un altro applauso se lo meriti tutto e adesso arriva la domanda cattiva di Carlo che ci eravamo detti quella cattiva la teniamo un po' per la fine ok la teniamo alla fine giusto insomma quello che è sconvolgente che comunque arriva e arriverà senz'altro a tutti coloro che leggeranno queste pagine è come tu Mattia ti trovi a tuo agio e tu voglia essere dove ci sono gli scarti dove c'è quello che la nostra società considera scarto rifiuto quello che è forcluso quello che è anche un rifiuto umano ti trovi a tuo agio con la babbella di linguaggi in un in in un periodo in cui sembra che non sia bene parlare è interessante parlare altre lingue però lì su questo scarto e dico scarto umano ma non solo perché c'è un capitolo molto interessante che affronta anche le questioni dei cambiamenti del clima e di quello che facciamo del pianeta Terra però lì dove c'è questo tu trovi che c'è qualche cosa di prezioso e che ti interroga e quando giustamente sei umano non riesci a dare la risposta e ti senti sconfitto ti senti lacerato nel tuo animo più interno poi insomma sei un teologo e quindi ami e aiuti anche a noi ad utilizzare a fare conoscenza di questo verbo magico delle viscere e di che cosa voglia avere che cosa voglia significa avere delle viscere di amore nei confronti dell'altro ma dove c'è uno scarto tu ci sei è così? ti ringrazio ma in realtà non è che ci sono io nel senso che in realtà in molte vicende appunto compresa quello degli sgomberi dei giorni scorsi vengo trascinato così è stato anche per gli inizi dell'avventura di Mediterranea perché il punto è esattamente quello che dicevate prima cioè la cosa più bella di tutte le nostre esperienze è che noi dobbiamo imparare ad abbattere i muri anche i muri che ci sono nelle nostre città e che tante volte appunto ci separano per cui stiamo stiamo insieme solo con quelli più simili a noi e magari i cattolici stiamo tra i cattolici chi viene dai centri sociali sta tra i centri sociali e via dicendo e tante volte noi ci siamo resi conto veramente che ciò che nel caso di Mediterranea ci ha permesso di di scoprirci amici fratelli e sorelle tra persone che vengono da una storia diversissima tra loro e sono esattamente i migranti i poveri gli ultimi cioè nel comune farci prossimi a queste persone ci siamo riscoperti fratelli e sorelle anche tra di noi e abbiamo scoperto una cosa del Vangelo quella che citavi tu prima il verbo delle viscere una parola greca complicata quella splanghizomai si pronuncia che è diventata la parola chiave di Mediterranea perché abbiamo scoperto ma non è una novità è così anche nel Vangelo che puoi essere cattolico ateo musulmano buddista ma qualunque persona umana è capace di provare questo amore questa compassione questa compassione viscerale che è quella che nella Bibbia caratterizza il cuore di Dio caratterizza il cuore di Gesù e caratterizza il cuore del samaritano e che è la chiave per trovare nella propria vita la gioia la felicità vera questa è l'esperienza continua che Mediterranea fa che per quanto sia faticoso sia difficile stare accanto agli ultimi sia per gli attacchi che si ricevono ma anche tante volte come riceva Carlo per le sconfitte che noi tante volte abbiamo subito in questo libro sono raccontate anche tante sconfitte nostre perché noi chi sta accanto a chi lavora accanto ai poveri lo sa che è un continuo anche sperimentare il fallimento proprio e la propria debolezza ma quando tu sei mosso e quando insieme agli altri siete mossi dallo stesso amore da questo amore viscerale da questo splanghizzo allora veramente senti che per quanto possa essere difficile però la pace nel cuore che hai la gioia che hai è più grande e ti dà la forza e questa è un'esperienza che a volte è difficile da descrivere a parole ma chiunque pratica l'accoglienza chiunque la vive in mare o in terra capisce a cosa mi riferisco e sa che questa è la verità allora abbiamo raccontato insomma tangenzialmente l'attività che fate su Mediterranea io vorrei che tu ce la raccontassi un po' di più anche nel nel concreto nel libro non c'è non c'è molta Mediterranea in senso come dire figurativo non c'è il mare non ci sono le onde c'è quello che succede c'è il ponte c'è il fatto che questa nave come altre rappresenti un ponte fra due terre che dovrebbero essere confinanti che sono confinanti ma che abbiamo deciso non esserlo però appunto parlavamo prima Carlo raccontava di insomma del fatto che tu non sia stato considerato un prete perché eri su una nave e introducevamo anche marginalmente sempre con Carlo le minacce ricevute da Migrant Rescue Watch che poi si è scoperto essere un account social nei fatti vicino gestito dalla mafia libica che ti ha preso di mira parlavamo anche della difficoltà poi arrivati sulla terraferma di insomma trovare un posto a queste a queste persone e quotidianamente parliamo anche sulle cronache dei giornali e dei telegiornali del fatto di come in realtà l'attività in mare non sia lecita non sia giusta sia sbagliata sia condannabile voi siete in mezzo a tutte queste a tutti questi marosi con in più l'onere di dover poi tirar su della gente per continuare a farla vivere per far sì che possa percorrere la propria vita raccontaci nel concreto l'attività le giornate di di Mediterranea così capiamo appunto l'importanza di esserci su quella nave sì sì grazie ma sono due le braccia principali da una parte l'attività della nave noi al momento l'ultima missione l'abbiamo fatta ad agosto il mese scorso è stata una missione particolare perché eravamo affiancati dalla barca vela di appoggio allestita e preparata da Migrantes l'organismo della CEI e questa che come dire è un po' la nave è un po' il centravanti della nostra missione noi siamo partiti in questo caso da Trapani siamo scesi nelle acque internazionali tra Lampedusa e la Tunisia la Libia e abbiamo condotto tre operazioni di soccorso tra l'altro in perfetta collaborazione con la Guardia Costiera ma è stato impressionante perché nell'operazione notturna noi chiaramente religiosi diciamo per provvidenza e gli altri magari dicono per il caso abbiamo incontrato e non era segnalato un'imbarcazione che aveva a bordo una cinquantina di giovani etiopi tra l'altro cristiani oltretutto che erano in mare da tre giorni non erano segnalati stavano imbarcando acqua la maggioranza erano minori stranieri non accompagnati se in quel momento non fosse passata la nostra nave la mare Ionio e non li avesse trovati vuoi per provvidenza vuoi per il caso queste persone sarebbero naufragate e non sarebbero neanche entrate nelle statistiche ufficiali questo è il dramma del nostro mare che le statistiche sono tutte statistiche a ribasso e poi chiaramente dopo la missione viene assegnato il porto di sbarco e appunto e lì la missione di mare si conclude ma c'è anche l'altro aspetto invece della missione di Mediterranea quello che viene svolto in collegamento con la Libia prima accennavate alle videochiamate questa è tutta la vicenda che abbiamo raccontato nel libro di Refugisi in Libia che comincia ad ottobre del 2021 io ero appena arrivato a Roma quel giorno tra l'altro erano Nantola che era andato a recuperare degli scatoloni abbiamo ricevuto una videochiamata dalla Libia dalla Libia l'abbiamo capito dal prefisso telefonico abbiamo risposto anche lì io in realtà ero titubante se rispondere o meno ho visto il prefisso libico ma sono stati dei miei ex parrucchiani ad avermi spinto a rispondere e ci siamo trovati davanti a una selva umana 2000 persone migranti originari dell'Africa subsahariana che erano accampati a Tripoli davanti alla sede du NHCR che disperatamente chiedevano aiuto allora abbiamo parlato cercato di capire cosa volessero loro da alcuni giorni si erano accampati lì perché stavano fuggendo dal sistema dei lager dalle milizie libiche e erano già sei giorni che erano accampati ma ci avevano chiamati perché la Libia è sottoposta talmente tanto a un sistema di censura anche di censura qua da noi dei media nostri che nessuno aveva riportato che c'erano 2000 migranti accampati davanti alla sede dell'alto commissariato ONU per i rifugiati a Tripoli e quindi loro ci hanno chiamati dicendo noi sappiamo che voi fate soccorsi in mare che voi siete accanti ai migranti vi chiediamo per piacere aiutateci sostenete il nostro grido sostenete la nostra lotta allora io ho passato allora io ho passato la chiamata ai miei compagni che chiaramente subito si sono attivati e quindi Mediterranea si è fatta sorella di refugisi in Libia e questo è stato un passaggio importantissimo perché noi cogliamo l'errore a volte di pensare che siamo noi i veri protagonisti di queste vicende invece vedo delle mie prof qua delle liceo muratori che ringrazio presenti ad ascoltare se dovessimo applicare le categorie letterarie i protagonisti di queste vicende sono i migranti noi siamo gli aiutanti non siamo i veri protagonisti e quindi è stato importante per Mediterranea anche questa capacità di dire ci mettiamo al servizio anche mediaticamente dei veri protagonisti i refugisi in Libia e abbiamo iniziato a sostenere come aiutanti la lotta dei veri protagonisti e questa lotta si è protratta per giorni e giorni guardate noi abbiamo organizzato conferenze stampa su Zoom con loro abbiamo perorato la loro causa in tutti i modi ma da parte delle autorità non c'è stata nessuna risposta i giorni passavano c'erano ovviamente rappresentanti nelle istituzioni che aiutavano che ascoltavano che spingevano il Papa è intervenuto rispondendo all'Angelus all'appello dei migranti in Libia anche gli altri vescovi però le autorità i governi che avevano il potere di rispondere e dire va bene accogliamo la richiesta evacuiamo queste persone non l'hanno fatto ma non l'hanno fatto anche per un problema culturale appunto che noi siamo abituati a ragione il Papa a pensare sempre le politiche sociali come verso i poveri e mai dei poveri e mai con i poveri riconoscere il protagonismo dei poveri dei migranti è molto difficile culturalmente per noi riconoscere la dignità di soggetto a queste persone è difficile perché è molto più facile per la nostra mentalità che i poveri rimangano oggetto quindi passavano i giorni non ci sono state risposte noi in realtà più che me certi compagni nostri di Mediterranea facevano lunghissime videochiamate con i migranti accampati a Tripoli e dopo 100 giorni in cui ci sono state tre vittime tra le persone accampate uccise misteriosamente non si è mai capito se incidenti o fuoco delle milizie il giorno numero 100 di questo presidio di notte riceviamo una telefonata una videochiamata disperata e i ragazzi stavano riprendendo i ragazzi migranti l'intervento delle milizie libiche anche lì di un apparato in realtà finanziato dall'Unione Europea ma capitanato da un boss della mafia libica che si chiama Mohammed Al Kogja e quindi il presidio è stato smantellato metà dei migranti è stata deportata nella gardia in Zara dove mesi dopo un nostro amico che era al presidio si è suicidato Mohammed perché aveva perso la speranza quando dicevo prima le nostre sconfitte i nostri fallimenti ma piano piano come dire alcuni sono riusciti a scappare la lotta è continuata e la lotta di refugi in Libia questa è la cosa bella continua anche oggi alcuni di loro sono riusciti ad arrivare qui attualmente sono in Italia uno di loro tra l'altro abita qua a Nonanto l'ha andato ad abitare il portavoce Davide Iambio e Mediterranea continua oggi oltre alla missione che fa in mare attraverso la nostra nave continua anche questa azione di supporto perché noi dobbiamo capire e su questo veramente ha ragione il messaggio non solo su questo qua in particolare il messaggio sociale della chiesa cioè o noi capiamo che la logica l'unica che ci può salvare è quella della fraternità ma della fraternità non per finta come sentimentalismo astratto della fraternità vera o se no noi non usciremo mai da tutte queste crisi e fraternità significa riconoscere anche innanzitutto il protagonismo dei poveri riconoscere che sono soggetto riconoscere che devono parlare con la loro voce riconoscere che noi e loro dobbiamo costruire insieme un legame che ci renda veramente fratelli e sorelle e questo è quello che Mediterranea fa come missione a terra insieme a Refugisi Libia e a tante altre realtà Allora intanto due informazioni di servizio una è se qualcuno vuole intervenire vuole fare qualche domanda la domantia lo può fare insomma già da questo momento in poi evitiamo il momento finale in cui si chiede se qualcuno vuole fare domanda e quindi c'è bisogno di rompere il ghiaccio quindi il ghiaccio lo rompiamo io e Carlo se vediamo delle mani alzate adesso negli ultimi 20 minuti magari riceverete un microfono così possiamo potete insomma intervenire dall'altro lato insomma vado da Carlo perché prima insomma quando Don Mattia parlava mi è venuto in mente anche una delle altre cose che sono citate nel libro cioè la difficoltà poi del far vedere delle cose di cui non siamo a conoscenza se non se ne parla oggi se le cose non si dicono dice a un certo punto Don Mattia nel libro o lo fa dire ad una delle persone di cui parla è come se non fossero successe proprio ecco da questo punto di vista condividi il dramma con me appunto in qualità di giornalista me lo chiedo sempre ma aver costretto Don Mattia a fare questo libro averne parlato oggi la fatica quotidiana del raccontare le vicende dei migranti io delle volte mi chiedo poi anche mi rispondo di sì però mi chiedo e ti chiedo funziona serve a qualcosa si riesce a far breccia perché quasi nella magia dei racconti di Don Mattia c'è lui come dicevamo prima riceve una videochiamata va e qualcosa succede c'è un incontro quello che io mi chiedo da comunicatore è se questa cosa succede allo stesso modo quando si parla e si raccontano le vicende si riesce a rompere questo 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 vetro insomma ma ce la fa e ce l'ha fatta non soltanto con la scrittura di questo libro perché è convinto ed è un passaggio che lo dico insomma non per precisione ma proprio perché è stato un momento forte nella lettura insomma delle bozze delle prime stesure a pagina 55 dice io non posso tacere queste cose e quindi ad un uomo che insomma per la scelta di vita insomma è abituato a che fare e a e a pregare con una parola che però no l'etimologia Don Mattia dice anche che sono cose nella lingua ebraica cioè è un essere concreto e soprattutto la tranquillità con cui ha come hai visto nel nel prendere posizione nei confronti delle istituzioni perché è chiaro lo si capisce se il Papa propone una presentazione a questo libro è chiaro che è totalmente convinto della della bontà del Magistero anche di Don Mattia e del suo gruppo e dei suoi amici ecco ma dall'altra il rapporto insomma perché sei sembri come un po' in un sandwich insomma da una parte insomma hai questo ottimo rapporto con insomma gran parte insomma della Chiesa il Papa in primis ma poi con con le istituzioni qual è qual è il tuo rapporto tuo o anche qual è la la sapienza che hai trovato che ti permette di gestire queste situazioni che a noi sembrano impossibili ma dici anche chiaramente ti aiutano o ti ostacolano andiamo sul concreto diciamo che noi chiaramente cerchiamo sempre il dialogo con le istituzioni perché per costruire la fraternità è necessario che le istituzioni facciano la loro parte senza le istituzioni non si riesce veramente a cambiare e poi come sapete ci sono istituzioni che aiutano istituzioni che ostacolano e detta molto sinceramente non c'è bisogno neanche come dire sono dati di fatto a noi le navi le hanno bloccate e talvolta le istituzioni il ministero dell'interno e ci ha costretti a dover aspettare ad andare a salvare le persone perché tramite delle leggi ingiuste le hanno bloccate noi nel 2019 qua è raccontato abbiamo dovuto anche disobbedire agli ordini delle istituzioni quando il ministro dell'interno ci disse nel 2019 non dovete venire qua dovete farvi coordinare dalla cosiddetta autorità libica abbiamo disobbedito fatto disobbedienza civile e poi la procura di aggrigento ha riconosciuto la bontà e anzi la legalità di quello che noi abbiamo fatto riconoscendo che l'ordine è stato è stato ingiusto e quindi noi come dire con le istituzioni abbiamo un rapporto di dialettica sempre teso al dialogo perché non si va da nessuna parte con lo scontro fino a se stesso e tutte le volte che si può anche teso a collaborare con le amministrazioni in particolare tanto quella di Bologna quanto quella di Roma in particolare che sono quelle che conosco direttamente noi collaboriamo nella libertà quando lunedì mattina a Roma c'è stato lo sgomberò noi pure io siamo intervenuti dicendo chiunque sia stato ad ordinarlo non era ancora chiaro chi fosse stato chiunque sia stato che sia la prefettura o il comune ha prodotto una ferita questo deve essere chiaro però noi abbiamo detto posto che c'è stata una ferita noi dobbiamo ripartire dalla collaborazione quindi noi non è che c'è stata una ferita quindi come dire vogliamo andare ad assaltare il municipio e la prefettura ripartiamo sedendoci insieme camminando insieme collaborando insieme e questo è quello che l'amministrazione a Roma ha fatto ha convocato il tavolo e abbiamo avviato un percorso per discutere insieme perché se vogliamo veramente cambiare questa società la nostra esperienza ce l'ha insegnato occorre che associazioni movimenti istituzioni amministrazioni anche delle diverse idee politiche nella come dire nel rispetto reciproco e nella sana dialettica ci mettiamo insieme facendo ciascuno la propria parte perché se noi siamo sgretolati e non dialoghiamo non collaboriamo e ci separiamo ci isoliamo davanti alle sfide che abbiamo oggi non ce la faremo mai perché oggi tutti dobbiamo avere l'umiltà di riconoscere che non solamente nessuno si salva da solo ma nessuno ce la fa da solo a cambiare le cose solo se ci uniamo solo se ci mettiamo insieme e questa è l'esperienza di Mediterranea e di Spin Time possiamo riuscire a cambiare le cose discutendo anche quando è necessario scontrandoci anche ma sempre sapendo che o assumiamo fino in fondo il fatto di essere un'unica famiglia o se non assumiamo questo dato e non lo trasformiamo in realtà non ci salveremo mai mani alzate mani alzate mani alzate io intanto proseguo ma intanto se volete ok ma intanto dove sono queste tue bravissime professoresse del liceo Ludovico Muantonio e Moratori facciamo un applauso a queste colleghe brave una volta tanto anche perché insomma io avendo fatto il classico sullo splagnizzo mai ho avuto un attimo di tentennamento nel senso poi mi sono ricordato di aver fatto il classico allora ho recuperato la mano alzata è lì prego sì buonasera mi chiamo Claudia la mia domanda è questa io mi sono prenotata a questo evento non ho ancora letto il libro me lo hanno regalato oggi perché è un tema a me caro però quello che mi ha attirato a prenotarmi è il titolo salvato dai migranti perché? puoi spiegarcelo? grazie tocca a lui rispondere magari raccogliamo qualche altra domanda dici? no non lo so però poi io se fossi nei suoi panni mi dimenticherei la prima domanda quindi no vai intanto rispondi magari e poi andiamo sull'altra dai sì ringrazio per la domanda dunque il titolo è un titolo che nasce veramente dall'esperienza di Mediterranea perché come vuol dire effettivamente è controintuitivo no? l'altro libro si chiamava pescatori di uomini e questo titolo un po' lo completa perché nasce dal fatto che dopo le prime missioni di Mediterranea dopo i primi soccorsi a un certo punto i nostri attivisti i nostri volontari hanno sviluppato questo slogan noi li soccorriamo loro ci salvano perché è vero ma è l'esperienza che fanno tutti non solo in mare ma anche in terra tutte le persone che vivono l'accoglienza quando tu accogli le persone quando accogli i poveri quelli che sono considerati i poveri tu a un certo punto lo senti che tu magari materialmente stai aiutando ma sono le persone che accogli le persone che soccorri che ti stanno salvando e quindi effettivamente l'esperienza nostra è un'esperienza in cui noi soccorriamo ma veniamo salvati e questa proprio non è un'espressione mia salvato dai migranti è un'espressione che è nata dai nostri attivisti che è vero perché loro dicono noi sì in apparenza pensiamo di non aver bisogno di essere salvati in realtà noi ne abbiamo profondo bisogno non solamente a livello religioso lo dicono anche i nostri compagnati tante volte noi siamo prigionieri di tanti schemi mentali che questa società ci impone e i giovani lo sanno meglio di tutti sapete che nelle scuole noi abbiamo un'esplosione dei disturbi di salute mentale in giovanissima età dovuti dicono i sociologi e gli psicologi a questa società della prestazione per cui veniamo talmente tanto incastrati in questa logica individualistica per cui ciò che conta è l'individuo e basta ciò che conta è la tua prestazione ciò che conta è il tuo affermarti sugli altri che a un certo punto diventiamo prigionieri di questi schemi mentali e esplodiamo quando tu pratichi l'accoglienza o il soccorso quando tu vivi l'amicizia con i poveri tu a un certo punto ti senti liberato ti senti salvato perché loro ti restituiscono a ciò che conta veramente nella vita a ciò che significa veramente la vita e quindi ti scopri salvato e salvato dai migranti e quindi abbiamo preso questa espressione col consenso dei compagni nostri per non fare plagio e l'abbiamo utilizzata beh devo dire che calza a pennello una seconda domanda mi devo stare no no può stare seduto desiderai sapere queste cose di quale diocesi lei è quanti immigrati regolari la sua diocedi ha accolto e dato che critica molto questa società vorrei sapere nel mondo qual è la sua società ideale effettivamente esistente e applicata grazie e beh insomma dunque bisogna dire innanzitutto che la chiesa cattolica attraverso i suoi vari organismi e le sue varie realtà è la realtà che pratica l'accoglienza più di ogni altro ovunque sia io vengo dalla diocesi di Modena abito nella abito a Roma quindi collaboro molto con la diocesi di Roma e tutti quanti le persone intellettualmente oneste riconoscono che la chiesa è quello che fa più di tutti chi non lo riconosce non è intellettualmente onesto se non riconosce questo il punto di fondo come dicevo prima è che noi dobbiamo collaborare maggiormente insieme perché quando ci si mette insieme come dire non parte detta matematicamente la somma l'addizione ma parte la moltiplicazione questa è l'esperienza che abbiamo fatto anche nei giorni scorsi nessuno da solo sarebbe stato in grado di accogliere efficacemente le persone sgomberate quando ci siamo messi insieme municipi associazioni e chiesa se riuscite ad accogliere tutte le persone e allora dobbiamo capire che quando a volte noi pensiamo che non sia possibile affrontare questi problemi noi siamo prigionieri di una bugia che ci viene messa in testa da certe politiche da certi interessi di dominio da certe persone che speculano sulla chiusura che speculano sul mantenimento di un certo tipo di società perché a Roma nei giorni scorsi c'è stato chi ha detto dopo gli sgomberi che praticamente non si capisce queste persone dove andavano portate perché c'è qualcuno sono state sgomberate dalle case sono state sgomberate dalle strade qualcuno ancora infieriva non capivi se devi portarle nei campi di concentramento o dove e speculavano proprio su questa idea non è possibile accogliere tutti poi invece quando le associazioni la chiesa i municipi e il comune si sono messi insieme tutti sono stati accolti e tutti sono stati accolti bene allora chi dice che non è possibile mente e se mente sapendo di mentire è in mala fede e rovina l'umanità perché quando ci si mette insieme si crea la moltiplicazione si crea il prodotto e quindi a quel punto non è più che 3 più 3 fa 6 ma 3 per 3 fa 9 se non ho sbagliato la matematica ed è la verità e ce lo mostra l'esperienza e a noi ad averci insegnato che siamo tutti prigionieri di questa bugia che non è possibile in un altro mondo sono stati giovani sono stati quei giovani di cui si parla nel libro sono stati ragazzi come Gabriele che l'altro giorno quando c'era lo sgombero io cercavo di far finta di niente mi ha telefonato inchiodandomi alle mie responsabilità cristiane sono loro che ci mostrano questo e lo spiega bene Marco da Milano nella post fazione allora noi dobbiamo crederci dobbiamo credere che quando ci mettiamo insieme le cose possono cambiare perché non si tratta di credere a un'utopia si tratta di credere a qualcosa che già sta avvenendo l'abbiamo visto questa settimana a Roma l'abbiamo visto in altre realtà lo vediamo ogni volta che si decide insieme di credere nell'umanità e di credere appunto nella fraternità la società ideale e la società ideale esiste ed esiste già nel piccolo in tante realtà che la praticano in tante realtà che la vivono quella che abbiamo visto nei giorni scorsi al centro accoglienza giovani che è stato costruito appunto a Roma quello che si vede anche a Bologna in tante parrocchie anche in tante realtà laiche sono gli inizi della società e dei piccoli fiori che ci sono si tratta che la difficoltà principale nostra oggi di fare rete o meglio come dicono i compagni nostri non basta più fare rete bisogna fare colla perché abbiamo sfide così grandi che non basta più avere una rete bisogna essere incollati gli uni agli altri e incollati camminare insieme quando lo si fa volta per volta si è visto che si riesce a fare tutto grazie allora forse collegandomi a quello che diceva Don Mattia le parti più belle del libro sono quando racconta di questi mondi apparentemente alieni tra di loro che si incrociano per cui la suora nelle case occupate che viene vista con diffidenza o i ragazzi del centro sociale TPO che accolgono il migrante portato lì da un prete insomma credo che da questo punto di vista questo modello di società insomma è perlomeno bello da vedere che sia poi concretamente fattibile dappertutto bisogna capirlo e bisogna lavorarci vederlo è straordinario allora altre l'ultima l'ultima domanda brevissima risposta brevissima poi chiudiamo e c'è il firma copie che vi aspetta lì all'angolo dalla casa editrice prego buonasera mi chiamo Luca e chiedevo a Mattia Ferrari quanto sono state importanti le opere sociologiche che sono citate nel libro penso a Marcuse a Bourdieu mi associo perché in effetti c'è tantissima sociologia ed è anche bello per questo il libro si ringrazio tra l'altro Luca e Cristina a proposito delle persone che fanno tanto sul fronte dell'accoglienza e che sono stati importanti anche nella mia vita abbiamo vissuto tante esperienze insieme anche a loro qui a Bologna e sì in realtà queste citazioni risentono del fatto appunto che io in questi anni sto studiando scienze sociali alla Gregoriana quindi io prima di andare a Roma neanche sapevo sinceramente chi fossero Marcuse e chi fosse Bourdieu sono state molto importanti perché a me abbiamo fatti conoscere un po' i nostri professori ma un po' anche gli studenti nostri dei movimenti studenteschi che frequentiamo che studiano sociologia alla sapienza sono state molto importanti perché ti mostrano anche a me che sono prete quindi venivo da studi prima ricio classico poi studi teologici che anche da chi non ti aspetteresti magari perché Bourdieu è per dire parliamo di sociologi anche Marcuse che non sono certamente cattolici però anche chi tu non penseresti ti aiuta a comprendere meglio la realtà cioè la realtà è così complessa che per riuscire a penetrarla dobbiamo avere l'umiltà di porci in ascolto di tutti anche di chi ha magari una storia diversa dalla nostra e per dire Bourdieu qua nel libro è citato per il tema della violenza simbolica che è quella quella forma di violenza che si manifesta oggi appunto quando si parla ad esempio del patriarcato cioè nel fatto che non c'è solamente la violenza fisica ma c'è anche la violenza sottile che si attua attraverso il fatto che la società ti impone degli schemi mentali che vanno a vantaggio dei dominanti e questa elaborazione non è avvenuta insieme alla Chiesa Cattolica è avvenuta appunto nella scuola sociologica di Pierre Bourdieu però la Chiesa ha nel corso della storia questa capacità di porsi in ascolto anche di questo e non solo Mediterranea ma anche la Chiesa nel suo Magistero assume anche questi contributi per noi di Mediterranea sono fondamentali perché ci hanno mostrato che la realtà è così complessa anche la questione migratoria è complessa che non è come dire mai risolvibile se abbiamo la pretesa noi da soli dalla nostra posizione dal nostro punto di vista di sapere tutto ma solamente quando ci mettiamo in ascolto anche del contributo che viene dagli altri che sia un cattolico che sia appunto un qualche sociologo ateo solo quando ci mettiamo insieme nella condivisione dei propri punti di vista della propria esperienza delle proprie competenze riusciamo ad afferrare la complessità guardate da scuola da me la mia professoressa la gregoriana prima cosa che diceva sui corsi sulle varie questioni che studiamo punto numero punto base se non siete disposti ad assumere il paradigma della complessità cioè capire che tutte queste questioni sono complesse e che nessuno da solo ha la verità in tasca e che solo insieme possiamo comprenderle se non siete disposti ad assumere il paradigma della complessità l'esame non presentatevi neanche e questo è vero e oggi abbiamo bisogno un pochino tutti quanti di maggiore umiltà nel porci appunto verso le questioni questi autori che tu hai citato Burdiò Marcuse a noi prima di tutto hanno insegnato questo allora il tempo a nostra disposizione è scaduto purtroppo però Don Mattia sarà qui adesso allo stand della EDB per il firmacopie quindi insomma è lì per voi io ringrazio Carlo Albarello che insomma è stato mio sodale in questa conversazione e vorrei un applauso ma lungo 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 proprio per Don Mattia Ferrari che è una persona straordinaria che io non conoscevo e ho conosciuto grazie a questo libro è insomma è un'esperienza che mi è piaciuta veramente tanto salvato dai migranti e di via edizioni grazie a tutti bene buonasera allora mi unisco ai ringraziamenti vi ricordo ancora una volta che questo era l'ultimo evento qui in piazza maggiore però abbiamo ancora un evento del festival che è la preghiera ecumenica che sarà alle 19.30 nella basilica di San Francesco le sue ferite sono state la vostra guarigione e ringraziamo ancora le editrici deoniane per il supporto a questo momento Mattia e Don Mattia e lo trovate adesso tra poco sotto lo stand dello spazio libri per le copie buonasera arrivederci alla prossima edizione grazie a tutti 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 grazie a tutti